pace e bene cari amici bentrovati in questa ventisettesima domenica meditiamo sul testo di luca 17 5 10 un testo che ci parla di fede cosa significa avere fede come vive colui che ha fede accompagnati da queste domande entriamo nel testo i discepoli hanno appena ascoltato le esigenze della sequela di gesù gesù ha parlato della necessità di non scandalizzare mai nessuno di perdonare fino a 70 volte 7 e davanti a tutto ciò l'esclamazione dei discepoli è signore accresci la nostra fede trasmette quasi quel senso di inadeguatezza far la volontà di dio come se fosse troppo quello che il signore vuole e chiede e allora la domanda è dammi più fede come se la fede fosse qualcosa di accumulabile o di ingrandibile la risposta di gesù aiuta a ridirezionare un po il tiro se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire a questo gelso sradicati vai e gettati nel mare lui vi andrebbe allora il punto qual è non è avere tanta fede ma averne perché la fede che cosa è e sapere che dio esiste e sapere tante cose a memoria no avere fede anzitutto è una relazione di fiducia è una relazione di fiducia e di obbedienza nei confronti di gesù anzitutto è fidarmi di lui e dunque vivere in comunione con lui mi fido di te si racconta di un paesino dove a causa di una forte siccità il parroco mandò a chiamare tutti i cristiani chiedendo loro di riunirsi in preghiera per implorare da dio il dono della pioggia si riunirono e si commossero al vedere la più piccola una bambina venire già col suo ombrellino ecco la fiducia è innanzitutto fidarmi del signore di conseguenza è fidarmi di ciò che lui mi dice dunque io ho una relazione di fiducia aperta con te so che tu mi rendi capace di fare ciò che tu mi dici faccio un esempio un po limitato ma che ci aiuta se io dico di fidarmi di un medico e a un certo punto mi va male questo medico prescrive una medicina se io non la prendo pensando di saperne di più posso dire di fidarmi fino in fondo di questo medico ovviamente no dunque la fiducia si concretizza poi nel mettere in atto ciò che il signore vuole e chiaro certe cose sono impegnative ci vorrà del tempo c'è del cammino da fare c'è un cammino di maturazione che dura tutta la vita ma il punto è sapere che il signore non solo ci dice cosa fare non solo ci insegna ad amare ma ci dà anche la grazia di farlo è un po come quel bambino a cui il papà gli chiese di spostare un vaso molto grande e papà gli disse ti raccomando metticela tutta il bambino iniziò si impegnò spingeva ma niente il vaso non si muove di un di un millimetro insiste insiste e alla fine si arrende e il papà gli disse ma figlio mio ce l'hai messa tutta si papà no non ce l'hai messa proprio tutta se ce l'avessi messa tutta mi avresti anche chiesto aiuto dunque se noi abbiamo questa relazione aperta con il signore questo rapporto di fiducia di amicizia con lui diventiamo capaci di sradicare i gelsi e uno potrebbe dire ma io non ho mai visto nessuno che sradica alberi in giro soltanto parlando all'albero magari in nome di gesù ovviamente il senso non è questo è un'immagine al tempo di gesù non c'erano i trattori e il gelso ha delle radici enormi e sradicarlo la mano era un'avventura quasi impossibile allora il signore ci vuole dire se voi avete una relazione di fiducia con me potete anche dire a quelle cose che ti sembrano insormontabili nella tua vita sradicati e diventi capace di superarle quali possono essere queste cose questi gelsi nel nostro cuore nella nostra vita ad esempio la difficoltà a perdonare qualcuno che ci ha fatto del male la difficoltà ad amare una persona particolarmente fastidiosa la difficoltà a uscire da un abitudine sbagliato da un vizio la difficoltà di non ricadere sempre nello stesso peccato insomma quella situazione spirituale esistenziale che ti sembra insormontabile con lui in lui abbiamo la luce per vederci chiaro e la per affrontare quelle situazioni che da soli sono impossibili più grandi di noi dio è il dio dell'impossibile la sua forza si manifesta pienamente nella nostra debolezza ora se noi diciamo di fidarci del signore come vivremo la nostra vita quotidiana ecco la seconda parte del testo di oggi dove gesù usa una parabola per farci riflettere abbiamo un servo che finisce il suo lavoro nei campi e torna a casa dal suo padrone e gesù chiede secondo voi quando entrerà in casa il padrone farà già trovare il pasto pronto e servirà il suo servo o forse non dirà il suo servo cucina dammi da mangiare e poi mangerai anche tu così voi quando avete fatto tutto ciò che vi è stato chiesto dite siamo servi inutili abbiamo fatto ciò che dovevamo che significano queste parole forse che dio è un padrone esigente che non è mai contento e pretende sempre prestazioni da noi no gesù qui non ci parla di dio ci parla di un atteggiamento da avere per vivere bene la nostra relazione con lui anzitutto se noi ci fidiamo di dio serviamo sempre e in ogni ambito il servo e servo sempre serve nei campi serve in casa serve e la sua identità servire essere utile potremmo dire ora se noi diciamo di fidarci di dio noi ci fideremo di lui e vivremo in comunione con lui in tutti gli ambiti della nostra vita e sempre cioè non viviamo la fede a compartimenti stagni della serie a io sono una persona di fede faccio il segno di croce la mattina poi magari sul lavoro vivo nell'ingiustizia più totale o nella corruzione oppure no io sono una persona di fede ogni anno faccio la processione del santo patrono però poi vivo magari nel rancore nel risentimento oppure vivo una doppia vita nell'infedeltà pure no io sono una persona di fede a messa quella non manca mai però poi magari agevolo il lavoro in nero oppure vivo una vita sessualmente dissolute disordinatissima ecco vivere da cristiani da credenti significa orientare a dio tutti gli ambiti della nostra vita servirlo sempre e in ogni ambito dunque ho servito dio la mattina svegliandomi nella prego bene lo servirò sistemando casa poi lo servirò sul posto di lavoro facendo bene il mio poi lo servirò relazionandomi bene con gli altri poi lo servirò vivendo in modo sano le amicizie e via dicendo è chiaro ci sono le nostre fragilità i peccati le cadute ma un conto è la caduta della fragilità un altro conto è vivere la fede a zone franche o così a compartimenti stagni o peggio ancora vivere nell'ipocrisia allora se una persona si fida del signore orienta lui tutta la sua vita ricordo una persona che una volta sempre a questo proposito disse ah io credo io sì io tutto sì voglio bene al signore però in camera da letto dio non entra ma se noi ci sono degli ambiti della vita in cui non vogliamo far entrare dio è perché fino in fondo non ne abbiamo gustata la bellezza non abbiamo scoperto la luminosità la pienezza che da vivere in comunione con lui tutto che sia il lavoro la preghiera la famiglia la sessualità e non abbiamo ancora capito invece l'amarezza del peccato quelle zone della vita dove dio non entra restano buie mediocri fallimentari infine se diciamo di fidarci di dio oltre a servirlo sempre in ogni ambito lo serviamo gratuitamente cioè cosa significa l'ultima frase dite siamo servi inutili non vuol dire che qualsiasi cosa uno fa non va mai bene non può mai essere contento la parola in greco vuol dire siamo servi senza guadagno cioè imparare a vivere una relazione con dio di amore gratuito un rapporto nuziale di dono reciproco non un rapporto mercantile o tipo dipendente col padrone di lavoro dove quello che faccio lo scrivo un minuto di straordinario chiedo subito il compenso no purtroppo tante volte nel rapporto con dio si fa così e si pretendono grazie facendosi forza su ciò che di buono si è fatto per lui o per gli altri e tante volte anche nei rapporti con gli altri manca la gratuità quello che facciamo ce lo segniamo e a suo tempo lo rinfacciamo ma ci pensiamo a quanto dio sia generoso con noi a quanto ci abbia donato e continui a donarci ci pensiamo mai che tutto ciò che possiamo fare che tutto l'amore che possiamo donare e niente rispetto a ciò che lui dona a ciascuno di noi chiediamo dunque la grazia di vivere una fede autentica una fede forte che si tramuti in una fiducia sempre e comunque in lui in qualsiasi ambito della vita è una fede vissuta nella gratuità di chi ricambia con amore a quell'amore infinito del quale ogni giorno vive pace e bene a tutti